La regione siciliana ha stanziato un sostegno economico in questo momento di crisi alle filiere corte ai mercati di nicchia per la valorizzazione dei prodotti identitari del territorio. È stata pubblicata la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili per ottenere il sostegno economico alla cooperazione di filiere orizzontale e verticale tra operatori impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono 18 le aziende agricole fra associazioni, cooperative e consorsi delle varie province siciliane ad essere state ammesse ai contributi stanziati con il bando che ha previsto una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro. Scopo dell'avviso relativo alla sottomisura 16.4 filiere corte e mercati locali del programma di sviluppo rurale della regione siciliana in linea con la strategia Farm to Fork dal produttore al consumatore definita dalla Commissione europea è quello di creare e sviluppare filiere corte e mercati locali e sostenere le attività promozionali a raggio locale. L'obiettivo è inoltre quello di sostenere la creazione di canali di mercato nazionali e internazionali per prodotti di nicchia, ridurre il numero dei soggetti intermediari e infine favorire lo sviluppo economico di aree rurali marginali, creando opportunità di lavoro per gli operatori locali. Con l'attuazione di questa misura la regione Sicilia vorrebbe muoversi su due binari paralleli. Uno cercherebbe di correre sul senso di fiducia e di appartenenza al territorio da parte dei consumatori e l'altro sulla promozione di una filiera produttiva fortemente identitaria e intrisa di storia, cultura ed emozioni.